La voce dell'Agenzia, rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. 25 giugno 2018, nuovamente insieme per un'altra puntata del radiogiornale online dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna. Un cordiale saluto vi giunge da parte di Biagio Cunzolo, oggi in studio con Gianfranco Mingione. I titoli delle notizie che tratteremo in questa puntata. 7.30 precompilato, è scaduto il termine per poter annullare la dichiarazione inviata. Più tempo per la comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi. La scadenza slitta al 20 agosto 2018. Concorsi per 140 funzionari, sedi d'esame, date delle prove attitudinali e tecnico-professionali. Ebbene, entriamo all'interno di ciascuna delle notizie. Se è scaduto il termine per poter annullare la dichiarazione inviata e adesso, se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è necessario compilare il modello 7.30 rettificativo. Se invece il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di avere dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ci sono due possibilità. La prima è questa. Il modello 7.30 integrativo deve essere presentato a un intermediario o al CAF o a un professionista, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Oppure, altra possibilità, presentare un modello redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. Se invece il contribuente si è accorto di avere dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quell'aspettante, deve presentare obbligatoriamente un modello redditi persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 7.30 che verrà comunque poi rimborsato dal sostituto d'imposta. Più tempo per la comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi. La scadenza slitta il 20 agosto 2018, dunque c'è stato questo rinvio della scadenza per la comunicazione telematica al fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. In questo modo i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. I soggetti che devono comunicare questa informazione sono quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare, compresi quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. E parliamo di concorso. Già nella puntata scorsa vi avevamo presentato le date delle prime prove attitudinali dei concorsi. Adesso invece vi presenteremo, oltre che le date della prova attitudinale, anche le date della prova tecnico-professionale. Andiamo a vedere più da vicino i tre concorsi. Parliamo dei 118 funzionari tecnici. La prova attitudinale, per quanto riguarda questo concorso, si svolgerà dal 2 al 6 luglio, con due sessioni giornaliere, 8.30 e 15, e la prova attitudinale si svolgerà a Roma, presso i locali della Fiera, in via Eiffel, padiglioni 5, ingresso est, sempre secondo il calendario e le modalità indicati sull'avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La prova tecnico-professionale di questo concorso, ovvero la prova prevista dal punto 7 del bando di concorso, avrà invece luogo il 26 luglio 2018. L'elenco degli ammessi a questa prova d'esame saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il 10 luglio 2018, con apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece il concorso per 20 esperti in analisi statistico-economiche, non c'è la prova attitudinale. Si svolgerà direttamente la prova oggettiva tecnico-professionale, questa prova si svolgerà il 25 luglio 2018, ci saranno due sessioni nella stessa giornata. La prova si svolgerà sempre presso i locali della Fiera di Roma, in via Eiffel, padiglione 5, ingresso Est, sempre secondo il calendario e le modalità indicati sull'avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Eventuali variazioni relative al diario e alla sede d'esame di questo concorso saranno pubblicate con apposito avviso, sempre sul sito dell'Agenzia, in data 10 luglio 2018. Resta a carico dei candidati l'onere di una verifica in tal senso sempre sul predetto sito. Per quanto riguarda il concorso per due funzionari tecnici da destinare agli uffici della Direzione Regionale della Valle d'Aosta, la prova attitudinale si svolgerà il 9 luglio 2018, alle ore 11, presso il Pala Indor di Aosta, ubicato in corso Lanceri 41-A. La prova oggettivo tecnico-professionale, per quanto riguarda questo concorso, avrà luogo invece il 31 luglio 2018, presso la Direzione Regionale della Valle d'Aosta, in Piazza Manzetti 2, ad Aosta. L'elenco degli ammessi alla predetta prova sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti il 10 luglio 2018, con apposito avviso sempre sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che tutti i candidati, oltre ad un valido documento di identità, dovranno consegnare all'atto dell'identificazione la stampa della domanda di partecipazione scaricata online è debitamente firmata. Ebbene, era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale online. Ringraziamo i nostri ascoltatori per averci preferito, il corriere saluto da parte di Biagio Consoli, di Gianfranco Mingione, e a risentirci alla prossima.